Questa è la storia di un uomo chiamato Dragù. Una favola. Lo sai che qui ci sono delle mine? Un sogno di un ragazzo. Io voglio fare il surf. Sei scemo? La fanciulla si chiamava Oat. Hans per primo rubbe il silenzio. Ma quanti anni hai? La storia di un amore. Io lo so che non l'avete tirato giù voi il 19. Mi fa provare. Come ti chiami? Martino. Vai! Stand up! Le amo a te. Se vuoi prendere un'onda, che fai? L'estate di Martino. Da novembre al cinema.